Raga suoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati Grazie e buona visione Ragazzi, abbiamo trovato l'asservatorio, abbiamo trovato la mappa del tesoro, abbiamo trovato il tesoro Ci manca solo il quesito della quest 7, buona visione Eeeh, bella turno sulle, ben tornati in questo nuovissimo video, sono Cristian167 Siamo oggi ragazzi, intornati sulla serie del momento, la serie del mio canale, la serie su Marte Scusate ho sbagliato, eccoci qua Oggi appunto affronteremo altri pericoli e andremo magari ad esplorare un pochino Ma, 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 dobbiamo farmare un pochettino appunto per accumulare tutte le nuove cose Lo scorso episodio abbiamo trovato la mappa del tesorio che ci ha permesso di completare la quest numero 5 e la quest numero 6 Ora, ci tocca la quest numero 7, poi ce ne sono ancora tantissime, non vi preoccupate Ma la quest numero 7 ha un problemino Allora, il mondo è ancora bello bello grande, vedete c'è ancora tantissimo da esplorare E secondo me ci sono ancora tantissime cose che appunto dobbiamo assolutamente vedere e trovare Ora, siccome appunto man mano che diventiamo più forti, aumentiamo armature e armamenti Dobbiamo esplorare in giro Difatti, quell'osservatorio credo sia stato uno dei primi appunto dungeon che abbiamo affrontato Però io non oso immaginare cos'altro si possa trovare in giro Su questo pianeta ragazzi ci stanno tantissime cose molto 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 pericolose Quindi dobbiamo fare attenzione Detto questo vi faccio vedere cosa ho fatto Ho fatto una farm di cactus Ho spostato i due alberi qua davanti perché erano inguardabili e li ho spostati qua dietro Mi avete detto in tanti di andare ad esplorare quell'osservatorio Ora però, siccome questa mappa è sviluppata a livelli Quindi piano base, cioè terra Collina E montagna Io non andrei subito in montagna ragazzi Perché potrebbe essere assai problematica la situazione Non possiamo sapere cosa ci sia esattamente là sopra Quando saremo belli pronti, belli preparati, avremo esplorato più o meno intorno a noi la zona Perché ci manca ancora tutto il dietro della navicella Potremmo andare ad affrontare appunto la montagna Può essere che non ci sia niente di esaltante Però io attenderei ancora un pochino anche perché quella struttura è leggermente più elaborata di quella Quindi attenderei ancora un attimino Comunque, cosa dobbiamo vedere oggi? La Quest 7 si può completare con La Quest 6 e 16 pezzettini di pietra rossa Ora, come si ottiene la pietra rossa? Si trova sotto terra Come si trova la pietra rossa su Marte? Non si trova Ecco, ve lo dico già io Non si trova Quindi, cosa dobbiamo fare? Andiamo dal nostro bot Personal bot, robot E andiamo a vedere se ci può vendere della redstone Ebbene sì, ce la vende Per 16 lapislazzoli Come si trovano i lapislazzoli sulla terra? Scavando sotto terra Giusto Come si trovano i lapislazzoli su Marte? Non si trovano Quindi, siamo bene Quindi, vediamo dal nostro personal robot se ha dei lapislazzoli da darci Non ha lapislazzoli da darci Potrebbe essere problematico Le opzioni sono due La prima è che o dobbiamo cercarli in una struttura intorno a noi Magari in qualche posto segreto In qualche cosa marina Magari ci sono dei relitti Delle cose particolari Delle navicelle schiantate Potremmo trovare altre cose Il problema è che se finiamo in trappole Siamo fregati perché vi ricordo che abbiamo una sola vita su Marte Quindi dobbiamo fare molta attenzione a non cascare in trappole La seconda opzione alla quale stavo pensando Sono andato a ricercare un pochino E ho visto che il continuo della mappa Non si ferma solo qui C'è la seconda parte di Marte Che sarebbe il sotterraneo Come si accende al sotterraneo? Quindi questo è lo strato superiore di Marte Noi dobbiamo andare al centro di Marte Per arrivare al centro di Marte Ragazzi, al centro del pianeta Marte Dobbiamo creare il portale In questo caso è il portale del Nether Però non ci porterà all'inferno Ma ci porterà al centro del pianeta Marte Come ben sapete Come si fa a costruire il portale del Nether Si fa con i diamanti Con i diamanti e l'ossidiana Quindi dobbiamo prendere i diamanti Per fare il piccone E poi appunto l'ossidiana Quindi Come si fanno i diamanti? Questo episodio è molto particolare Con i cactus cotti Ora io già qua ne ho cotti un bel po' Perché ho farmato davvero davvero tanto Anche un po' di vetro e un po' di cose Perché già che c'ero E come vedete qui c'è la mia farm di cactus Che appunto prima o poi raccoglierò di nuovo Anche perché i cactus ragazzi In ogni caso ci servono per creare o la terra O appunto i diamanti Quindi ho deciso di farmarne tanti Quindi in questo episodio cosa facciamo? Prendiamo appunto Cerchiamo di scambiare Questi materiali per i diamanti Un diamante l'abbiamo già perché l'abbiamo trovato nel tesoro Quindi facciamo questo nostro scambio con tre diamanti Uno, due, tre Che ragazzi voi non avete idea Ho farmato qualcosa come tre ore Per avere tre diamanti Incredibile Mi piange quasi il cuore Ora con questi tre diamanti Possiamo creare il nostro piccone di diamante Ok ragazzuoli Ho aumentato di gran lunga la farm Direi che è molto 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 Più grande di prima Qui ho aggiunto un piccolo ponticello appunto Con un giardino di cactus Che è bellissimo ragazzi Come fa a non piacervi un giardino pieno di cactus Non so se c'è una strategia particolare Per fare l'ossidiana in modo sicuro Ma possiamo provare Ci possiamo provare Giusto? Ok io proverei a fare un qualcosa del genere Via Ok ok Ragazzi sono un genio Ragazzi ho fatto un qualcosa di allucinante È diventata tutta ossidiana per fortuna Io pensavo diventasse tutta cobblestone Invece sono riuscito a recuperare questa cosa E far diventare tutta l'ossidiana possibile Ora facciamo la stessa cosa Qui Ok Allora qui ho messo l'acqua Per proteggerci da eventuali schizzetti di lava Che potrebbero ucciderci E no grazie E direi di iniziare a raccogliere Quindi dobbiamo costruire questo portale Che ci porterà all'interno Nei sotterranei Al centro del mondo Di Marte Per trovare appunto i nostri amici La bislazzuli Ok 12 pezzi ottenuti Poi io qua tranquillamente Off camera Mi ripulirò il tutto E poi ci dobbiamo decidere A portare il nostro cobblestone generator Più vicino a casa Così da poter farmare in tutta tranquillità Senza nessun tipo di problema Guardate ragazzi Si vede che qualcuno vive su Marte Sta diventando il pianeta Sempre sempre più verde Magari qualcuno sulla terra Dal satellite ci può individuare E venirci a dare una mano Chissà se ci sono mai stati altri astronauti Sul pianeta Marte Però dubito fortemente Che siano sopravvissuti Detto questo Qui intanto Ha cotto i nostri cactus Qua ne aggiungiamo altri Così almeno siamo tranquilli Qua pure Così possiamo farmare Tanti 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 cactus E io direi che Il nostro piccone di diamante Lo lasciamo a casa Perché non si sa mai E andiamo a creare Il nostro appunto portale Magari in questo episodio Lo creeremo Nel prossimo lo accenderemo E andremo al centro Del pianeta di Marte Unica cosa che stavo pensando È che ci serve l'acciarino Ok La ghiaia si fa con 8 ossa Che io dovrei avere Eccole qua Io ho 16 ossa Quindi direi che possiamo scambiarlo E ottenere appunto La ghiaia Perfetto 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 Tac Eccolo qua Ok L'abbiamo ottenuto Possiamo fare l'acciarino Perfetto 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 Ok Creiamo subito il nostro acciarino Senza problemi Ok ragazzi Allora Possiamo fare così O lo costruisco sull'albero Che non è male Potrei fare l'albero fatto bene E costruisco il portale Qua sopra Oppure lo posso mettere Sotto terra Lo posso mettere dietro La struttura Però secondo me Sull'albero sarebbe davvero Davvero figo Questa cosa ve la faccio Scegliere a voi Quindi andate su telegram Che avrò fatto un sondaggio Passate che trovate in descrizione E scegliete appunto Se volete Il portale del nether Il portale per il centro di marte Sull'albero Oppure da qualche altra parte Scrivetemi magari dove Consigliatemelo Quindi passate su telegram Detto questo ragazzuoli In questo episodio Abbiamo farmato un pochettino Per ottenere il portale Che ci porterà al centro di marte Non lo costruisco ancora Perché appunto Faccio scegliere a voi Dove volete posizionarlo Secondo me Sull'albero sarebbe davvero Un tocco di classe Detto questo Vi ringrazio ancora tantissimo Io farmo ancora un pochettino Per ottenere tutti i materiali Che ci serviranno Per completare E tornare sulla terra Per sconfiggere Chi ha rubato Tutti i nostri mondi Detto questo Vi ringrazio ancora tantissimo Sta per arrivare la vanilla O magari sarà già arrivata Perché io sto episodio Lo sto pre-registrando Perché sono in vacanza E volevi Detto questo Ci becchiamo In un prossimo video Wow Ciao 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 Ciao